Da oggi il reparto di chirurgia dell'ospedale San Salvatore di Pesero torna al massimo dell'operatività. Lo fa dopo il completamento di lavori strutturali che hanno visto mezzo milione di euro di investimenti fra impiantistica e arredi per 33 posti letto collocati nella palazzina A dell'ospedale. Un rinnovamento accompagnato sabato dal taglio del nastro alla presenza della direttrice di Marche Nord Maria Capalbo, del prefetto Tommaso Ricciardi, di Monsignor Piero Coccia che ha presenziato all'inaugurazione nel giorno del suo congedo d'arcivescovo e dai vertici della giunta regionale che hanno applaudito il rinnovato reparto diretto dal primario Alberto Patriti. Volevamo testimoniare l'impegno con cui la giunta regionale segue l'evoluzione del servizio sanità nella provincia di Pesero Urbino. Questa è una tappa significativa intermedia tra quello che avverrà nei prossimi anni cioè la realizzazione di un ospedale di Pesero e intanto l'adeguamento di questa struttura perché nel tempo necessario per la realizzazione della nuova struttura dobbiamo adeguare i servizi e anche i plessi ospedalieri alle norme vigenti. Riapriamo un reparto fondamentale, importante, i posti di chirurgia e quindi Pesero è un'eccellenza, vanta una mobilità attiva quindi sono numerose le persone che vengono a curarsi a Pesero e queste sono le cose positive che vanno sottolineate. Un reparto, un ospedale, un personale qualificato che dà sicuramente lustro alla nostra regione, al nostro sistema sanitario. Lo ha fatto nei periodi di crisi, quelli più brutti, quelli dell'inizio Covid e speriamo, siamo sicuri che in una fase migliore che auguriamo tutti possa essere il prima possibile potremo tornare a programmare e a contraddistinguerci per la capacità di dare servizi, di dare risposte e fornire assistenza ai malati, alle persone più deboli e alle categorie più a rischio.